che cos'è questo che cos'è questo un papavero il papavero ma sai perché correndo l'altro giorno innanzitutto lo sai che sono alti 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 come no io sono piccoli piccolino vicino avrò avuto 8 9 10 anni c'è un gioco col papavero allora cosa fai metti il petalo leggermente il petalo nell'incavo tra indice e pollice e dargli la botta secca cioè e scoppierà tipo petardo provo io dai facciamo così 3 2 1 scoppiato sì ma non si è sentito provato questo no 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 deve fare spak però però ha fatto sì altro giorno è andato come si fa che di solito nelle prove viene benissimo è stato l'ultimo e poi mettiamo no adesso ne faccio uno anch'io vai 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 un'altra questi sono momenti questi sono momenti eh sì 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 vabbè insomma però provate a casa